questo è il primo filmato del mio mi title con l'installazione xp live questo è il task manager non so se riesce a vedere questo è il menu e se non xp live non ho potuto configurare il touch screen per quello qualche difficoltà per cui utilizzo un mouse connesso a un hub usb a cui è connesso la chiavetta di boot in questo momento sto facendo un dump tra i miei drive snapshot del contenuto del disco sto backupando la partizione sto backupando la partizione hd1 hd1 2.1 che è la partizione del sistema operativo sto backupando con un hub usb 1.1 a 90 megabyte al minuto in questo momento questo è il full manager ci diventa smergere ci diventa smergere come vedete come vedete c'è tutto sono a 44% del bellissimo il nostro cuore questo è il nostro il nostro cuore